Ragazzoli bellissimi, io sono il vostro Crax, pelato! Ebbene sì, abbiamo tagliato tutto ieri in live, è successo il delirio, abbiamo raggiunto i 2 milioni, vi ringrazio tantissimo di cuore perché è un traguardo incredibile visto anche il periodo che stiamo vivendo dove magari altri social sono molto più virali, video verticali e così via. Noi su YouTube non ci siamo mai fermati, in meno di 10 anni 2 milioni. Grazie davvero tanto e sapete qual è il bello? Per celebrare tutto questo, anzi serviva la pelata dei Crax per far arrivare su Brostar's il rework dei trofei! Non ci posso credere dal 2019! Dove abbiamo fatto il milione? Facciamo 2 milioni! Reworka nei trofei, me posso sentire male. In cambio se siete naip andremo a tradurre una sorta di patch note che poi verrà rilasciata in game. Vi chiedo 2 milioni di like, iscrivetevi e campanella è fondamentale per rimanere aggiornati, codice Crax ovunque. Crax pelato, provate a vedere se funziona. In tutti quanti gli shop Supercell e SupercellStory in descrizione ho il codice Crax, sacco dei premi! Ci sta pure Whatsapp! Allora per essere credibile però dobbiamo andare col cappello. Switchiamo schermata! C'è questo super pdf che annuncia il rework dei trofei, lo leggiamo insieme, facciamo la traduzione. Aspettate che lo zoom un pochino, ok? La traduzione sarà sopra di me. Mi sono un attimo centrato, ci dovremmo essere Trophy Season Rework is Coming. Quello non lo traduco, si va subito sotto. Intanto bellissimo sto trofeo tutto quanto cromatico bello e andiamo a vedere un po' che cosa hanno da comunicare. Lo leggiamo preciso preciso, traduzione eccola lì. È quel periodo dell'anno in cui rivediamo di nuovo un intero sistema. Questa volta è il reset della stagione dei trofei. Quali sono i principali problemi di questo sistema? Quindi fanno una sorta di premesse. È inutilmente complessa e non divertente. Cioè, scusate no, ma noi lo diciamo dal 2020 e te ne esci nel 2024 con questa affermazione quando lo abbiamo stradetto e ridetto. E allora Crax aveva ragione! E allora Crax quando faceva le reaction che non modificavano i trofei eccetera, non aveva tutti i torti. Ah, adesso salite tutti quanti sul carro dei vincitori? Non se fa così. Quanti sassolini ci togliamo e si gode! Inoltre le ricompense fanno schifo. Disincentiva i giocatori a usare i loro brawler preferiti perché a un certo punto diventa troppo difficile farli avanzare. Inoltre i tempi di matchmaking diventano troppo lunghi nelle partite ad alto trofeo, ad alti trofei. I nostri obiettivi con il nuovo sistema sono rendere il sistema più chiaro, non necessariamente più semplice e divertente. Rendersi più, traduce non benissimo, eh? Renderlo più accogliente per i giocatori casual ma anche più significativo per i guerrieri della ladder, i ladder warriors, quelli che pushavano alla fine. Più gratificante e più coinvolgente rimuovere l'attrito del giocatore con un brawler ad alto trofeo. Credo che si parli di matchmaking. Vabbè, queste qua sono le premesse. Bene, ci sono tutti quanti i problemi e tutte quante le soluzioni. Stiamo aggiungendo più livelli e rendendo il sistema più chiaro e gratificante. Ragazzi, questi sono i nuovi rank. Ebbene sì, già ve lo dico, ci saranno 50 rank. Per arrivare al tier max, il rank max, da cui poi parte la vera classifica trofei. La vera scalata trofei. Andiamo a prendere tutto il pezzo e lo leggiamo insieme. Mi immagino già tutti quanti quelli che adesso diranno sì, è quello che servirà al gioco. Ma mo' ve lo dico io quello che penso, seguite il piccolo Crax, che un po' di esperienza in questo settore ce l'ha. So' quasi dieci anni. Molte cose stanno cambiando con questa volta, quindi potrebbe essere difficile confrontare il vecchio sistema con il nuovo. Ma in sintesi, il nuovo sistema della stagione trofei dovrebbe essere più intuitivo e più gratificante. Tutto per la stessa quantità di impegno che attualmente metti nel gioco. Quindi loro dicono, senza cambiare la quantità di tempo che tu dedichi, dovresti comunque avere un nuovo sistema migliore. Ci sono ora 50 livelli in totale, cioè con questo aggiornamento, 50 rank in totale. Il livello massimo si chiama max. Da 0 a 1050 rank, oltre le 1000 c'è sta sto rank max. Per raggiungere il livello max con un brawler avrai bisogno di 1000 trofei. Cioè tu arrivi a 1000 trofei sul singolo brawler e comincia questo percorso max. Nel nuovo sistema progredirai di un livello ogni 20 trofei. Un livello, chiamatelo rank, io vi parlo come i vecchi rank, dall'1 al 35, dall'1 al 50 ogni 20 trofei. L'acquisizione e la perdita di trofei, cioè la vittoria e la sconfitta, saranno adattate per adattarsi meglio al nuovo sistema e saranno più indulgenti sotto i 1000 trofei. Che significa che prima prendevamo più 8, più 9, meno 9 e così via. Ora invece credo che ci consentiranno di raggiungere i 1000 trofei molto più facilmente. E infatti subito inizierai a perdere più trofei di quanti ne guadagni solo dopo i 1100. Cioè proprio riguarda quelli che hanno i brawler max, oltre i 1000. Addirittura tra 1000 e 1100 credo che ci sia la stessa quantità di coppe vinte e coppe perse. Oltre le 1100 si ritorna un po' al discorso oltre le 1000 coppe che prendevi, meno coppe in caso di vittoria rispetto a quelle che perdevi. Per rendere il tutto molto più competitivo. Ci sta. Oh che spettacolo, tutto in sincro come gli altri giochi. La stagione trofei inizierà e terminerà nello stesso giorno del Brawl Pass. Wow. Finisce il pass, reset. Non l'ammezzo, se capiva niente, benissimo. Oltre a questo, il reset mensile ripristenerà sempre tutti quanti i brawler a 1000 trofei. È come se avessero alzato il vecchio reset da 500, l'hanno portato a 1000 trofei. Da 0 a 1000 è essenzialmente il percorso, tra virgolette, la maestria del brawler. Lo porti a 1000 coppe e una volta che ce l'è 1000 comincia la vera scalata. Non c'è alcun reset e trofei per brawler al di sotto dei 1000 trofei. Avremo tutti quanti i brawler a 1000 trofei 84.000 coppe free. Che cosa succederà dopo? Tranquilli che poi dopo facciamo un po' di recap, non vi preoccupate. Con 1000 trofei raggiungi il livello più alto disponibile, max, quello che dicevamo prima. I trofei che ottieni dopo 1000 verranno comunque conteggiati, ma ora diventeranno trofei di stagione e ti aiutano a progredire verso un nuovo oggetto. La scatola dei trofei, una nuova box! Ulteriori dettagli qui sotto. La scatola dei trofei di base si sblocca anche per tutti coloro che hanno almeno 1500 trofei totali, ma poi per progredirle ulteriormente sono i brawler sopra 1000 trofei. Ok, ve lo spiego. Praticamente che stanno dicendo che la scatola dei trofei la puoi sbloccare anche con 1500 trofei generici. Cioè tipo 500 coppe in tre brawler, un player che ha iniziato da poco a giocare, ma non la puoi migliorare perché in base a quante coppe stagionali vai a fare, può migliorare con le ricompense. Ne parliamo tra pochissimo. Quindi i due metodi per sbloccare questa box, 1500 trofei totali divisi tra i brawler, ma tanto non puoi andare avanti perché comunque ti serve un brawler a 1000, oppure grazie a un brawler a 1000 trofei. Semplice. Tutti i trofei in eccesso, oltre 1000, che sono quelli stagionali che ti vengono resettati a fine stagione e ti riportano tutti quanti i brawler a 1000, quei trofei lì vengono considerati su questo nuovo box. Mo te lo spiego. E lo vedete qui a sinistra che è bellissimo tra l'altro. Sì, è una nuova box, invece di ricevere solo bling, quantità di bling inesistenti alla fine della stagione con i vecchi reset, eccetera, ora ottieni una scatola trofeo. La scatola trofeo si sblocca una volta che porti un brawler a 1000 trofei, come dicevo prima, oppure quando raggiungi un totale di 1500 trofei su tutti quanti i brawler, che è pochissimo, c'è proprio lo start all'inizio. Sicuramente ti garantisce la box quella più piccola, ma se vuoi migliorarla devi per forza andare oltre i 1000 trofei sul singolo brawler e cominciare a prendere trofei. Qualsiasi trofeo guadagnato oltre i 1000 trofei è ora un trofeo di stagione. Parliamo di singolo brawler. I trofei di stagione fanno salire di livello la tua scatola trofeo. La scatola trofeo ha 5 livelli, piccola, grande, mega, omega e ultra, in base a quanti trofei stagionali facciamo. Più grande la scatola, maggiori saranno le ricompense. Se le ricompense per l'upgrade del livello sono state rimosse a... Qui parlano l'upgrade del rank, cioè tipo dal rank 19 al rank 20 ti dava qualche bling. Ma non preoccuparti, con il nuovo sistema riceverai anche più bling di prima, perfetto. I contenuti della scatola trofeo sono principalmente cosmetici, inclusa una skin garantita e a seconda del livello della scatola potrebbe anche contenere una skin mitica, leggendaria o hypercharge skin gemme all'interno di una box stagionale. Mi posso? Senti male? E mo te dice proprio l'immagine qua sotto, guarda che benessere, la vediamo insieme. La zoomo pure in modo tale che così la vedete proprio bella, precisa e sistemo la traduzione. Ci viene garantito, attenzione, ma non è faticoso arrivarci, sì è faticoso ottenere le scatole di livello superiore, ma se giochi con la stessa quantità di tempo che stai giocando oggi otterrai comunque più ricompense rispetto a prima e le abilità dovrebbero essere considerate di più col nuovo sistema, cioè secondo loro c'è più competitività. Analizziamo un attimo l'immagine, non so se vedete il cursore. La cassa questa qua verde è quella che sblocchiamo a mille trofei su un singolo brawler o mille e cinquecento trofei dell'account, cioè anche senza i trofei stagionali, quindi oltre mille coppe, noi ogni fine season prendiamo una cassa con sei skip, una skin rara garantita, quindi questa è proprio con zero trofei, cioè quella proprio che ti dai in automatico. Vedete ci sono anche altre ricompense qua sotto, le gemmi bling che vanno ovviamente negli skipper, doppio XP, c'è stanno gli avatar, c'è stanno i pin, c'è stanno gli spray eccetera. A cento coppe abbiamo la possibilità di ottenere, questa qua, adesso non mi ricordo le rarità, comunque questa azzurra, con skin garantita super rara, quattrocento coppe stagionali, ripeto le coppe stagionali sono quelle oltre mille coppe. Ad esempio noi abbiamo tutti quanti i brawler a mille, perché alla fine ci arriveremo tutti quanti con i brawler a mille, dato che non ci sono i reset, è essenzialmente un tutorial del brawler, un po' come le vecchie cinquecento coppe. Ecco, arrivare a cinquecento coppe era semplicissimo, adesso sarà più semplice arrivare a mille coppe, perché le coppe che ti danno saranno sicuramente di più rispetto a prima per arrivare a mille coppe. Una volta arrivate a mille coppe si comincia, tutte le coppe extra che facciamo stagionali, che poi ci verranno resettate alla fine del mese, vengono conteggiate all'interno di questo trophy box. Allora, dopo c'è pure un'altra immagine che vediamo insieme, per arrivare a tremila punti, che è la super box, secondo me non è così impossibile. Comunque con cento trofei, una vittoria quanto ci darà? Inizialmente sei, sette trofei, una vittoria oltre le mille? Diciamo che non è impossibile migliorarlo, soprattutto per chi ha tanti brawler, te le splitti un po' sui brawler e vai avanti a farmi i bauli. Dicevamo, la box è quella azzurra, so, otto skip garantita quella lì super rara, a quattrocento dieci skip abbiamo dei drop di super raro epico e sempre skin garantita super rara, mille trofei, sedici skip garantita l'epica e drop mitica addirittura. Attenzione a tremila, hai venti skip ogni fine mese belli, eh? Per chi fa tremila coppe ogni fine mese. Skin garantita, epica, ma può droppare skin mitica, leggendaria e hypercharge. Incredibile, sarebbe bellissimo vedere poi le percentuali di drop. Oh, questa qua era l'immagine che volevo farvi vedere. Qui ci fa vedere addirittura più tre coppe a mille e cinquecento trofei. Mettiamo che queste tre coppe sono quelle oltre le mille e cento, come ci diceva che prenderemo meno coppe rispetto alle sconfitte, no? Ma da mille a millecento, considerando che tutti quanti porteranno i brawler a mille, secondo me sarà più che fattibile. E, dato che questi qua sono tutti punti stagionali, se noi portiamo tutti quanti i brawler a millecento, sono otto mila quattrocento punti stagionali. Portandoli tutti a millecento, non è che li di portare a milleotto, millecinque, ma rimanendo ancora più umili, basterebbe fare cento coppe su trenta brawler ogni mese, perché tanto vengono resettati sempre a mille, per avere garantita questa box a fine mese. Una volta che si assesteranno tutti quanti a mille, penso che sia abbastanza easy. Mettiamo le mani avanti, poi bisognerà sicuramente capire, eh? Non capisco, però, perché qui ci sta scritto, ve lo sto indicando, 333 su 666. Questo non l'ho capito. Non so se è un bug, perché qua sopra invece ci dice da duecento, ottantotto a quattrocento, sblocchi l'altro. Andando avanti, il matchmaking prenderà in considerazione i trofei brawler e cercherà di abbinare i giocatori con un conteggio di trofei simile, quindi hanno migliorato anche il matchmaking e dopo i mille trofei tutti i brawler, tutti i giocatori, saranno nello stesso pool di matchmaking. Lo schiacci, no? Lo riduci rispetto a prima che era da zero a mille duecento, mille cinquecento, ora è da mille a mille cinque. Dovrebbe aiutare con i tempi, inizierà a perdere più trofei quando avrai solo mille cento più trofei sul singolo brawler. L'underdog viene rimosso dopo mille trofei, quindi puoi beccare da mille a mille cinque. La serie di vittorie saranno... Aia, ragazzi! Il win streak non sarà più generico ma sul singolo brawler per rendere i push più equi. E allora sarà un pochino più complicato riuscire a fare tutti quanti i brawler, però logico, tutti a mille saranno tutti più scarsi. Bisognerà poi testarlo. Di sicuro questa non è la soluzione finale, totale, tombale dei push e delle coppe, però almeno ci stanno delle ricompense. Il record di serie di vittorie più alto sarà comunque mantenuto nel profilo, non lo perderemo quello che abbiamo, ma significa che i professionisti e i giocatori casual saranno tutti nello stesso pool dopo mille trofei, sì, ma il numero dei professionisti è molto molto più piccolo rispetto al numero dei giocatori casual. Quindi potrebbe succedere che beccherete magari dei player forti, ma è molto raro perché, ecco, vi dicevo, le partite saranno un po' più semplici, saranno tutti a mille. E più o meno abbiamo analizzato tutto, vi ho spiegato tutto quanto. Per i più competitivi avremo due classifiche per ogni brawler, una classifica stagionale che viene azzerata ogni stagione e una classifica di tutti i tempi che traccia il numero massimo di trofei mai raggiunto con un singolo brawler. Cioè, se io faccio il record assoluto di Edgar, 2000 coppe a marzo, se nessuno lo supera per i successivi mesi, rimarrò in quella classifica fino a quando qualcuno non farà 2000 a un trofeo. Fico! Ogni volta che raggiungi la vetta e entri nella classifica stagionale ricevi un'icona di prestigio per il tuo profilo. Quell'icona mostrerà un numero che aumenta ogni volta che ti piazzi tra i primi con almeno un brawler una volta a stagione. Se piazzi un brawler in top c'è quel prestigio lì, ogni mese che lo fai aumenta sempre di più il prestigio, carino. Ah, e qui parliamo ragazzi dei vecchi record, dei vecchi rank. Se nel sistema attuale hai brawler a livello 35, rank 35, potresti chiederti se sia stato tutto vano. E la risposta è in parte. Ma i tuoi risultati vivranno per sempre, li mettono nel profilo sicuramente. I giocatori che hanno avuto... Uh no, c'è sta il pin. I giocatori che hanno avuto almeno un brawler a livello 35 riceveranno una pin unica. I giocatori che avranno avuto almeno 10 brawler riceveranno un titolo addirittura esclusivo. Il tuo massimo storico sarà preso in considerazione quindi se hai avuto brawler al 35 nelle stagioni precedenti ma non in quella, ok. Quindi l'importante è avere il rank 35. Il numero totale di brawler che hai mai avuto a livello 35 sarà anche segnato nel tuo profilo così potrai usarlo per impressionare la tua... Ma dai, mi dissocio. Diciamo che il record assoluto sarà avere 84 rank 35. Qualcuno li ha? Sicuramente sì. Avrete quell'84 GG per voi perché dal prossimo mese credo cambierà tutto. Ah, interessantissimo. Nella prima stagione di trofei successiva all'aggiornamento ogni brawler sopra i mille trofei verrà ripristinato a mille. Ah, allora in questo momento conviene stare fermi per quelli che hanno meno di mille brawler non salite. Quando accadrà molti dei cambiamenti saranno già in atto il giorno dell'aggiornamento. Uh, che si avvicina alla fine di ottobre 26 Brawl Talk scoppiettante. Se hai un brawler con oltre mille trofei potrai già aggiungere progressi alla tua prima scatola trofei invece, vedi, mi stavo sbagliando. Pensavo partisse proprio con il reset di tutti invece no. Considerano già i trofei di adesso potrai già aggiungere progressi alla tua prima scatola trofei che verrà rilasciata con il reset della stagione subito dopo la fine della stagione Scary Tales il 7 novembre. Ah, ok, ci viene pure detto che alcuni dei valori potrebbero cambiare quelle statistiche che abbiamo visto. Vedremo poi le patch ufficiali. e vogliono sicuramente sapere il nostro feedback. Ragazzi, allora alla luce di tutto questo che vi dico è una modifica molto importante e avremo sicuramente più ricompense rispetto a prima. Logico, non è che ci fanno max agli account sono rimasti molto vaghi con ricompense estetiche un po' come gli star drop classificati. Secondo me meglio rispetto a prima 100% per i casual player. Per i player competitivi non so perché andare oltre le 1500 sarà tosta secondo me rispetto a prima perché i reset sono più frequenti ti resettano tutti quanti i brawler rispetto ai 10 brawler di prima non lo so lo valuteremo poi bene nel dettaglio questo è quello che vogliono droppare in game fatemi sapere la vostra vi chiedo di lasciare un pollicione vi mando un kiss enormissimo dal Grax pelato a 2 milioni di iscritti e niente hanno fatto l'aggiornamento finalmente per trofei bisognerà sviscelarlo di più lascia un like iscriviti e campanella codice Grax ovunque un bacio ciao belli ciao ciao